Vuole fare chiarezza l'ASP di Caltanissetta con lavoratori e sindacati e dichiara che sono stati già erogati quasi 2 milioni e mezzo di euro riferendosi alle spettanze arretrate. Infatti al centro della diatriba tra ASP lavoratori e sindacati sono proprio gli arretrati presumibilmente non liquidati come dai impegni concordati nei mesi precedenti da parte della direzione dell'azienda sanitaria. Ed è proprio la direzione strategica che risponde al contenuto delle note della CGL ed RSU iniziando a fornire dei chiarimenti dalla pattuizione degli impegni assunti nella contrattazione integrativa del mese di dicembre 2019 dicendo questa direzione sta applicando appieno gli istituti contrattuali previsti in sede di contrattazione integrativa nella convinzione che dalla loro corretta valorizzazione scaturiscano positive ripercussioni per il raggiungimento di migliori standard dell'organizzazione e quindi più in generale di un miglioramento effettivo della sanità della provincia nissena. Nel corso dei mesi di dicembre 2019 gennaio 2020 sono stati corrisposti come previsto dall'accordo di dicembre 2019 al compiuto completamento del previsto ciclo delle performance le seguenti somme per la produttività 37.621 euro erogati a 67 dipendenti appartenenti a 8 unità operative per il 2015, 506.531 euro a 851 dipendenti appartenenti a 46 unità operative per il 2016. In aggiunta, continua la nota, per quanto concerne lo straordinario 2018 in relazione al previsto accordo CCIA di dicembre 2019 sono stati corrisposti al personale dipendente del comparto i seguenti fondi sulla base delle risultanze accertate dagli uffici, quindi ore rese ed autorizzate. 1.925.267 euro distribuite a 908 unità di personale appartenenti al comparto. Ulteriore nodo cruciale riguarda la mancata comunicazione alle organizzazioni sindacali circa i ritardi sulla liquidazione come previsto dagli accordi pattuiti in precedenza. Riteniamo intervenire sulla replica che l'ASPE di Caltanissetta ha inviato alle organizzazioni sindacali in merito alla questione della mancata erogazione delle somme legate alla produttività degli anni progressi. Noi abbiamo contestato la mancata erogazione delle somme così come erano state definite a dicembre 2019 alla firma del contratto integrativo, ma soprattutto riteniamo doveroso ribadire come organizzazione sindacale firmataria del contratto collettivo nazionale della sanità l'importanza e la centralità che come funzione pubblica CGL attribuiamo all'intero sistema di relazioni sindacali, soprattutto dopo la vacanza di ben 10 anni di contrattazione e dopo che la legge Brunetta ci aveva enormemente limitato all'interno delle proclative sindacali. Dobbiamo ricordare che il contratto collettivo nazionale ha restituito la contrattazione alle rappresentanze dei lavoratori e all'organizzazione sindacale affinché queste potessero intervenire con i vari strumenti di partecipazione in ogni processo decisionale che produce effetti sull'organizzazione del lavoro e sul rapporto di lavoro e in questa maniera, solo in questa maniera, si può ristabilire il corretto equilibrio tra la rappresentanza datoriale e quella dei lavoratori.